Arriverà un giorno in cui la sinistra capirà che cos'è la democrazia, ma purtroppo quel giorno non è oggi. Oggi è successo un dramma, un disastro, perché c'è stata una manifestazione davanti alla sede RAI di Napoli che nelle premesse era abbastanza chiara, il logo di RAI era insanguinato, quindi si sapeva perfettamente come sarebbe finita. Sostanzialmente questi facinorosi, questi rappresentanti dei centri sociali di Napoli hanno letteralmente aggredito la sede della RAI. I poliziotti si sono intrapposti per evitare che questi potessero entrare e sostanzialmente sono avvenuti i tafferugli. Cinque feriti da un lato, cinque feriti dall'altro. Chiaramente il nostro augurio è di pronta guarigione per tutti. Ma la sinistra chiaramente grida al fascismo, alla censura, ma non sanno di cosa stanno parlando. I monologhi e le prese posizioni politiche di Gali e le ulteriori prese posizioni di Darje and Amigo. Insomma, se qualcuno deve valutare a destra o sinistra anche questo Sanremo, è un Sanremo tutto di sinistra. Quindi, se sono così scontenti, le loro Sanremo di sinistra e malgrado questo urlano alla censura, evidentemente non hanno proprio idea di cosa sia la democrazia. Ciao ciao PD!